Emma Marrone e limportanza degli accessori, il suo look è il top Icona di stile e star del panorama artistico nazionale, Emma Marrone continua a regalare ai suoi fan scatti e video che ritraggono la sua quotidianità. Che sia in vacanza con gli amici o impegnata in appuntamenti di lavoro, la bella cantante Salentina non perdi occasione per condividere con il pubblico i dettagli della sua vita. I suoi ultimi outfit sono stati molto apprezzati e un ruolo determinante è stato rivestito dalla scelta degli accessori, indispensabili per regalare alla Marrone un tocco particolare e glamour. Stile allo stile, Emma Marrone non sbaglia un colpo. La cantante Salentina ha avuto una beauty evolution sconvolgente negli ultimi anni, da giovane ragazza Acqua e Sapone si è trasformata in una donna sensuale ed affascinante, senza mai rinunciare al suo stile rock. I fan, oltre ad apprezzare il suo talento artistico, sono molto affezionati alla sua personalità determinata e solare, sempre pronta a vivere le nuove opportunità in modo propositivo. Emma Marrone continua a non sbagliare un colpo, gli ultimi outfit che ha mostrato su suoi seguitissimi canali social, in particolare Instagram, hanno riscosso un successo strepitoso. In un video postato appena un giorno fa, la cantante, impegnata in un viaggio in treno, sfoggiava un paio di occhiali da sole vintage di colore chiaro, un trucco molto naturale, i capelli ribelli lasciati liberi sulla fronte e una serie di accessori che hanno destato l'attenzione del suo pubblico. Due anelli e una doppia collana con ciondolo, perfetta per valorizzare la scollatura della sua camicia dal sapore vintage, Emma appare più bella che mai, anche mentre affronta gli impegni della giornata. . Nel giro di poche ore il video ha raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni e numerosi commenti di approvazione da parte dei followers, che si sono complimentati con la loro beniamina per la sua perfetta forma fisica. . L'estate ti fa bella, Emma appare al top. Dopo una lunga estate calda, trascorsa tra il Salento, Ibiza e la Sicilia, la splendida cantante salentina è tornata più bella che mai, dimostrando quanto sia vero il detto l'estate ti fa bella. . . Dopo molti impegni lavorativi, Emma aveva bisogno di un periodo detox, da trascorrere in compagnia della sua amata famiglia e degli amici, senza però mai dimenticarsi dei suoi fan. . Nei mesi scorsi infatti non sono mancate le foto che la ritraevano in bikini o addirittura in topless, più sensuale ed elegante che mai, i fan infatti ammirano il suo essere sexy, ma mai eccessiva. . Oltre ad essere una delle voci più apprezzate del panorama nazionale infatti Emma Marrone è diventata anche un'autentica web influencer e trendsetter, sono tantissime ormai le persone che si rivolgono a lei per ricevere consigli di stile e di bellezza, considerandola un'autentica fonte di ispirazione. . Determinata, talentuosa e intensa, Emma è una donna consapevole delle sue forze e delle sue debolezze, sempre pronta a mettersi in gioco per cogliere nuove sfide. . L'autunno è alle porte e di certo la cantante riserverà nuove sorprese indimenticabili al suo pubblico, dimostrandosi ancora una volta una star impareggiabile. . 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 Ciao